Il colto alla rovescia è cominciato e da ieri mattina le ruspe sono in azione nell'area verde di fronte alla sfera grande di Pomodoro per preparare il terreno ad accogliere le imponenti basi di cemento. Entro qualche giorno infatti sul lungomare di Pesaro svetterà la torre panoramica di 75 metri che l'imprenditore Massimo De Carlo ha deciso di portare nella città di Rossini, un'attrazione più unica che rara che i tecnici sperano di poter inaugurare entro il prossimo 17 novembre in concomitanza con la notte bianca della musica. La struttura è composta da una colonna verticale e da una piattaforma panoramica circolare chiusa e climatizzata da 60 posti che darà ai suoi ospiti una visione unica. Intanto sarà un super novembre perché tra la notte della musica la torre panoramica all'avvio del Natale e tante altre iniziative sarà veramente un novembre super. La torre panoramica è unica in Italia, è stata fino a questo momento a Bari dove andare a Londra invece ha deciso di fermarsi a Pesaro, un imprenditore di Riccione che ha deciso di investire nella nostra città e noi abbiamo messo a disposizione l'area che è l'area del prato vicino alla palla di Pomodoro dalla quale si può vedere un panorama completo di Pesaro dall'alto, del centro, del San Bartolo, di Fano, delle zone interne quindi sicuramente si presta molto bene. È un'operazione per noi di grande vantaggio perché è un'operazione privata, tutta a costo del privato appunto e quindi speriamo che venga tanta gente in più a Pesaro anche per questa attrazione e che ne possa beneficiare tutta la città. Vogliamo continuare a rendere Pesaro sempre più attrattiva e questa sicuramente è un'attrattiva nuova e anche originale perché mentre ci sono tante ruote panoramiche, di torri panoramiche in Italia ce n'è solo una e per diversi mesi ce l'avremo a Pesaro. I prezzi ufficiali dei biglietti non sono ancora stati resi noti ma non dovrebbero discostarsi molto dalle tariffe applicate a Bari ovvero 9 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini. La torre panoramica rimarrà a Pesaro fino alla prossima primavera, poi verrà smontata e il terreno dei giardini verrà ripristinato tornando più bello di prima. Grazie.